Salve a tutti gente di internet, qui è Lucando47 che vi parla e ve lo sto dicendo in versione scout e benvenuti ragazzi dopo tutto sto tempo, perchè dico tutto sto tempo? Perché siamo su Zombie Army Trilogy, quando ho fatto il gameplay che non avevo mai pubblicato nel 2014, perchè nel 2014 ho fatto una prima parte di questo gioco, ma non l'ho mai pubblicato su Youtube, però comunque l'annuncio c'è ancora, ma il gameplay non l'ho mai pubblicato in quell'anno, oggi parteciperò anch'io al gameplay, il video verrà postato anche sul mio canale Youtube, siamo sicuri? Sì, quello devi scrivere che è video originale, Lucando47, lo scriverò tranquillo, e niente sono in compagnia di Daniele, no Daniel scusa, lo direi un'altra persona, siamo in versione scout, perchè noi siamo degli scout, noi siamo come Mauro, senza perderci in chiacchiere, cominciamo, sicuramente non faccio come nel 2015 che ci metto 30 anni o 2014 che ci metto 30 anni per parlare prima di cominciare la partita, giocheremo un po' insieme, adesso inizio io, poi inizio a sto qui, sto minchione, buon divertimento e... no, campagna? sì, no, ah, giocatore singolo, ho messo anche la webcam magari così anche il più divertente vedendo le nostre re-action, o come direbbe Mauro, le nostre re-action, il captain, odio c'è anche guarda il Swiger, minchia, guarda il secondo, guarda il secondo, questo? no si, adonno Swiger quanto lo odiavo nella campagna di Sniper Life V2, madonna mia, no che figo ci sono pure quelli di Left 4 Dead, guarda, questo è un DLC troppo bello, chi vuoi mettere? no io volevo mettere il nazista, vabbè, il captain, dai, allora, allora il Berlino, buon divertimento ragazzi, seconda volta Zombie Army Trilogy dopo 9 anni e prima volta partita con Daniel, dopo la live che abbiamo fatto di A Mind Joke, che lui farà nel suo canale una propria partita di A Mind Joke 2, cioè sul suo canale, comunque questa è stata la nostra prima partita online in live, questa è la nostra seconda partita però registrando normalmente, cioè con action, quindi per adesso abbiamo fatto due partite insieme su YouTube, sei contento? fatti conoscere anche tu, dai, vi faccio vedere un vero esperto no, sceglierei le armi se l'audio è troppo basso del gioco è meglio così, perché onestamente nei giochi commentari come li chiamavo commentati è più importante l'audio del microfono del giocatore che non ho l'audio della partita, quindi più è basso l'audio del gioco, più è alto l'audio del microfono, meglio è per il commentary vai Dani, fa vedere chi sei fuai, no, fuai fuai, il captain mica, che ci fanno a vista con l'arma russa? che ne so no, se tu hai giocato a zombie armi 4, dead war, filati, dead war rispetto a questo poche munizioni, a posto siamo no, c'è un 79 no, si voleva dire 8 colpi, non munizioni fai, fai guardato per i caratteri spero che la web, che non si veda, che cavolo guardavo così comunque la campagna principale di zombie armi come si cambia arma? tutto per me no, tu ne sei scherzi guarda, non mi ha giocato a sua bella 2-2 si, ma è rimasto cioè è lo stesso che, vabbè, è uno spin off però praticamente non si mette la postura praticamente lo si mette la postura e dice, muzzolini allora, wakman trova più munizioni, dove cazzo le trovo? no, 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 guarda, la ptsh non te, la ptsh c'ha sempre avuto poche munizioni io ti consiglio, quando c'è il revolver e ma come si mette mica il kamikaze, via, 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 con le kamikaze ma come si mette il revolver? per le tricette, queste tricette piccole eh, ma l'ho messo, ma no, quelli sono, no, quelli sono, oppure l'occupamento forse con l1 e l1 diciamo senti, io non ho mai giocato con il controllo della sto gioco ho dovuto si tastere il mouse, quindi non saprei trova tutti i tasti, non saprei che cazzo ah, è un particolare che questo me lo ricordo se a chiuno gli spari sulla testa resiste, parlo quindi se gli spari nella patella il tuo arco lo muovi l'ho preso sono bloccato porcanna fanculo, fanculo, fanculo daniel dimmi una cosa hai mai visto uno zombie che spara? no? no ora l'ho visto però io mica da inizio aspetta però non riesco mai a mettere la pistola ma ma perché non mi... ma perché non mi... ma questo è un esplosivo aspetta allora perché con le freccette metti l'equipaggiamento mi sembrava che era con le freccette potevi prendere due volte il triangolo no, questa è la bomba meglio dai era triangolo per cambiare no ma per mettere la pistola oltre a bianco scappa, va via non farti mangiare il culo no, grazie ma il mio padre che sparà gli zombie così a bianco a bianco sono più esperto io vabbè l'inchiamato tu sei più esperto di giochi di zombie tu tu con i COD sei... tu sei il RE, non è COD eh, però è praticamente come si può fare la stessa roba è un po' questo si, è fortale del principiante occhio l'epoca è quella occhio carl è in mezzo che m... che m... che m... m... merda ecco mica ci sono le munizioni lì lì dove c'è la trincea lì 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 però la cosa strana è che non abbiano mai fatto zombie army trilogy per SNKL per remaster ma zombie army trilogy è uno spin off non lo so però siccome... però potrebbero fare anche un remaster anche di zombie army trilogy siccome è uno spin off di SNKL non lo so ma sono così cretino che ho usato il cecchino ha avvicinato proprio ma è finito il fucile ma puoi ricaricarla eh se qualcuno sa come si mette la pistola ce lo dica beh è un gioco di... dieci anni fa non pensi che qualcuno ce lo dica mai sai eh 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 sei marcio come la polenta tu fai a caso vai nella stella va che è meglio come il Thompson io mica ce l'ho portato cioè mi prende le munizioni del Thompson anche se non ce l'abbiamo va bene no amica quello è orribile cazzo il kamikaze mi piace c'è Boris Boris il mitraiere no è qui è qui ambulanza sono qui i zombie gli ha eh gli ha addestrati bene Hitler i suoi soldati eh oh vabbè vabbè minchia nell'occhio c'è un po' un marzo guarda che quello è uno stronzo l'hai preso l'hai preso ecco gli hai fatto partire nel metto bravo hai la mal di testa addio il kamikaze vaffanculo che spavento madonna ma più per me o più per lui per tutto ma che cazzo ci avevo davanti il kamikaze ha si si mi si 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 io vorrei prima lo che si Qua mi scusa a tua sorella per alzotto la fettaccia. Guarda che ti ci ho guardato il video. Vuotarsi. Per un linguaggio escluso. Ma io ci ho guardato per l'ardismo. Non credo. Perché te l'ho girato quello stronzo. No basta che tu fermi poi scappi. Lui appena si ferma qui. Devo andare dall'altra parte. Corri figlio di... Corri forest celemidis. Non sono sfatato. Non puoi passare. Cazzo. Come muori. Por... Canna la miseria. Porcazzo il cazzo. E' un altro. Oh, provo a fare una mossa con il macete. Ah, non siamo subito. Scusa. Oggi mi sento stronzo. Non so. Sarà per la partita. Per le emozioni. Mi faccio vedere. Mica... Ora rimaniamo un'ora qua di gameplay bloccati in sto punto. Facciamo una cosa. Prima ammazziamo il Boris lo ne fa ieri. e poi ci troviamo nel livello. Ciao. Facciamo una cosa. Risparmiamoci la PPS. Allora. E allora facciamo una cosa. Sì, occhio allo stronzo per favore. Ciao. Ma stiamo parlando? Buonissimo. Oh lui. Quello che vuoi. come cavolo facciamo? immagini se su Left 4 Dead ci sono i giochi che sparano ah ma ho capito dove devi andare eh si devo andare no prima non mi sa dobbiamo farli fuori tutti madonna mia fammi che cazzo Michael Jackson Michael Jackson no secondo quello Michael Jackson e abbiamo 40 veramente veramente perché non mette il mirino è che ho bugato il mirino non ci credo è il cadavere di Mussolini ma dai non mette quello a sta b***a dai non mette il mirino del cucito non metterlo subito in questo video perché hai fatto una battuta lo taglio lo taglio lo taglio ce la fai tocca a me cazzo non mi metteva il cecchino perché non sai giocare non voglio stare attento a ste battute davanti al gameplay si perché mi sono in guai e non ho detto niente io io sono pulito ce l'ho fatta ce l'ho fatta quando non ha ammatti il Gorix lo spartacorrencio guarda non mette... ah no che coglione L1 per mettere il mirino L1 non è che da specoli che non gioco la snap era bisogna camperarsi in questi casi bisogna sempre camperarsi in questi casi Dio caro beh devo dire che camperarsi non aiuta molto no no pessima idea colpo migliore 150 uccisioni 10 combo record 5 punteggio 300 facciamo una cosa ragazzi allora se riusciamo a fare sto punto meglio intanto metto in pausa il video se no poi ci mettiamo 30 anni che caso bene ragazzi siamo morti 500.000 4.100 2.000 volte daniel è andato un attimo a andato all'ingotto che doveva avere un appuntamento interessante con con Obama così a caso e quindi non c'è più per il gameplay perché è stanco e quindi sta dormendo a casa di Obama a posto e niente ragazzi facciamo una bella cosa allora io continuo da solo però se muoio ancora una volta il gameplay finisce qua è stato un gameplay un po' alla cavolo ma almeno ci siamo divertiti spero che vi siate divertiti anche voi ultimo tentativo poi però comunque ragazzi il primo gameplay l'ho fatto con daniel perché ci teneva tanto però tutti i prossimi gameplay che farò di zombie armi trilogy li farò da solo eh si questa è la prima parte ci siamo stati insieme abbiamo fatto schifo in partita ok almeno ci siamo stati insieme poi i prossimi vi farò da solo spero di farli non è più il più presto possibile vieni qua stronzo Kamikaze vieni bene ragazzi spero che il gameplay vi sia piaciuto noi ci vediamo alla prossima fanculo se no potremmo fare una bella no allora ragazzi facciamo una cosa allora perché magari nella seconda parte vediamo se riesco a fare quel pezzo della campagna se no magari poi prossimamente eh potrei anche fare qualche orda perché non ho mai provato l'orda neanche nel 2014 ho solo fatto la campagna però comunque eh spero che il gameplay vi sia piaciuto eh niente ci vediamo alla prossima bye daniel eh chiamato anche su youtube horrorblog 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 e io lukando47 il gameplay lo metterà questo gameplay lo metterà anche sul suo canale però mettendo il link e scrivendo il video originale lukando47 e niente bye lukando e buona serata a tutti ciao ragazzi spero che spero che gusterete il video ehm quante volte l'ho detto vabbè comunque ciao e bye lukando però agile il ragazzo così un riferimento ad assassin's creed a caso che che